Benvenuti in questo nuovo video sul canale Sport Excel. Oggi andremo a creare una scheda d'allenamento per il fitness su Excel. Come potete vedere io ho già inserito diverse liste di esercizi che si suddividono in gambe, spalle, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti e core. Ognuno potrà compiere la propria lista e inserire i propri esercizi. In un successivo momento vedremo come variare anche le liste. Come prima cosa selezioneremo una alla volta le liste andando ad indicare nella casella in alto a sinistra, come vediamo dall'esempio, il nome che vorremmo assegnare ad ogni lista che poi ci servirà successivamente per richiamarle. nella pagina successiva che vedremo a questa che si chiama programma fitness andremo a impostare una tabella che suddivideremo in categorie, in esercizi, nelle serie, nelle ripetizioni e nel recupero come una classica tabella da allenamento. Come vediamo dall'esempio categoria, esercizio, serie, ripetizioni e recupero. Tornando nella pagina precedente e cliccando gestione nomi nell'indice formula potremo variare a nostro piacimento i riferimenti prima assegnati. In questo modo in un secondo momento potremo implementare nuovi esercizi. Adesso torniamo alla pagina programma fitness. Qui andremo a selezionare la colonna categoria e cliccheremo su convalida dati nel menu a tendina. Andremo così a selezionare la voce elenco e nella casella origine andremo a digitare uguale categoria successivamente cliccando ok. Vedremo che questo ci riporterà le categorie che prima abbiamo assegnato in quella determinata casella. Per nella colonna esercizio faremo lo stesso procedimento ma in origine andremo a inserire il comando indiretto seguito dalla casella di riferimento. In questo caso per noi A7 che ci permetterà a seconda della categoria scelta di avere solo gli esercizi di quella determinata categoria presenti in quella determinata casella come vedremo dall'esempio. Ritornando nella pagina riferimenti esercizi andremo a creare i valori per le serie, le ripetizioni e il recupero a cui poi assegneremo un nome di riferimento come fatto precedentemente con gli esercizi. Questo nome ci servirà sempre nella pagina programma fitness per richiamarlo come elenco. Ognuno ovviamente potrà compilare a suo piacimento serie, ripetizioni e il recupero come vediamo dall'esempio in cui stiamo assegnando i nomi. Ora che abbiamo la nostra tabella con tutti gli elenchi predisposti potremo creare una scheda di allenamento in maniera veloce e intuitiva. Il procedimento per inserire poi le serie, le ripetizioni e il recupero sarà uguale a quello usato per gli esercizi. In questo caso non useremo il comando indiretto ma faremo in modo che ad ogni casella appartenga un valore e quindi in questo modo basterà cliccare sul menu a tendina che ci permetterà di inserire i vari numeri. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi e nel caso di condividere il video se vi è stato utile. Grazie e arrivederci. Ciao!